Allora facciamo una domanda alla gente che se vuole vedere il ristorante noi facciamo un ristorante se invece vogliono vedere qualcos'altro Signora, scusi signora, vuole per caso un ristorante? Ma quanto sei critico, ma non la signora Siamo nuovamente noi al vostro amico Allo 7499 Dove siate per un nuovo episodio di Mindfraus Insieme al nostro amico Willy, Willy Boyce Ci sei Willy Boyce? Ciao tutti ragazzi Siamo che William rientri subito perché ha avuto un problema di carattere in mod Si è unito William William, sul tetto della casa, maledetto Dove sei? Se mi spari ti ammassano Ok, buona, allora tu vai avanti a fare le tue cose che stavi facendo qua Finisci la casetta bene bene E noi intanto finiamo a fare lo che è Ma che palle ste mosche Ma vedete? Devece morire tutti, anche io Mi son fatto malissimo Vediamo se vengono fuori dalle balle adesso Adesso si tratta di unire con una strada principale, una strada maestra Questo con il resto del villaggio E' la strada quella che dovrà fare accomodare il re Che arriverà giù da qua Che farà tutto il giro Poi ci sarà un bel ponte che attraversa il fiume Che fiumicione gigantesco No, 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 no Sai cosa stai facendo, William, William? Devo fare la pistola di legno Scusami, non ho capito Devo farmi la pistola di legno Così quando ho finito la pistola di pietra Mi faccio quella di legno C'ho già quella di legno con i proiettili Ok Dai, corri a fare la tua pistola Dimmi Vuoi una sbattilata sulla faccia, sui denti Papi Oh Sono accorso, ma Dimmi Dimmi Ma la terra, te, cosa serve? La raccolgo perché mi serve per fare Quando devo fare i ponteggi qua No, guarda che ho fatto l'arco della pace qui L'arco di trionfo Però per fare i ponteggi uso la terra Te l'ho detto che non voglio casino Perché la terra è più facile da costruire e da rompere Faccia così E il nostro amico Master Chief È uscito Dopo Papi, non vedo niente Qualcuno non vedi niente, cosa vuol dire? Sono in una caverna Papi Attenzione a spawnare zombie Non aver paura Volviamo a casa Andiamo a fare la nanna Sì, vedi Sì, vedi Che cercherà in tutti i modi Di non far venire gli zombie A ucciderci come dei maledetti Hai finito i colpi? Sto a punto Si vede che non hai quelli giusti Si vede Se hai fatto la pistola di legno Devi avere i proiettili di legno Di ferro, non di pietra E come me li faccio, questi proiettili? E come te li fai? Quelli di legna? Assi di quercia e le pietre insieme Devi metterli, hai capito? Oì Ma hai capito? Ho fatto solo finta Di capirmi Cosa stai leggendo? Hai capito come si fanno le cose? Ok Mi dai proiettili Perfetto Abbiamo fatto proprio una strada Di quelle Di rococo Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Guarda che bella Ok Non è proprio frutta Un bel villaggetto Sta facendo sera Andiamo, dobbiamo andare a sdraiacci subito Ma dov'è che stai guardando te? Guardi in su Così corri E salti Come gli ignoranti Dai che corro nel letto anch'io Corri, corri Ok, perfetto Allora qua Visto che ci sono i creepers Che roccano le valle Io devo alzare Mi sicuro il muro Lo devo alzare Ma più bene Dimmi I creeper sono molto stupidi Perché se tu posizioni una bomba La Loro ci passano E dopo Posizioni un bottone Il creeper passa sopra il bottone Esplode tutto e muore Il creeper Anche? Non muoiamo noi Possiamo fare anche così Dai Ho dato io sta idea Mi dovresti anche ringraziare Faremo così Un bel pulsante Che esplode tutto Fassi una bella festa Che vola la mano però Dove sei finito? Bambus Sono qua Vieni attimo Ma si ma da che parte? Guarda lì Eh cosa devi fare? Papi Eh ho capito Mi vedi? Beh secondo te Sono davanti a te Cosa c'è? Vieni Andiamo a prendere un po' di pietra? Ma così al buio Ma scusa eh Aspetta andiamo a prendere le mie carbone Che c'era un fornace Io devo andare a prendere le pietre che c'ho lì sopra Dopo Che sta facendo buio Porca bestia Ma che bella la mia città Che bella Adesso io da qua Da qua farò un ponte Che attraversa tutto Devo mettermi in bolla Quindi sarà qua Ci sarà sto ponte Che porta All'ingresso della città Ma sei un capolavoro Un capolavoro Papi Dimmi Un secondo te Dove sei? Boh Sei nel tuo castello? Facci come Rambo Eh? Rambo Ricordati di mettere le luci ogni tanto E raccogli le pietre Attento alla lava E torna a casa per pranzo Che se no la mamma si arrabbia Hai capito? Ti aspetto qui Ti raccomando Signorante che sono Scusa? Sì Vieni a tornare a lettino Top William Ma cazzo Ma cazzo ma che sei Uno dei Degli X-Men Che colpisci la gente da lontano Come Come proprio Come Magneto Guarda che c'è lì Troppo avanti Troppo avanti Troppo avanti Troppo Il muro è fatto Arriva Arriva Un creeper Maledetto Pietro 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 Tu che sei un X-Men Pietro Pietro Guarda chi c'è Sei troppo avanti Sei troppo avanti Ok E' contento il sindaco C'è poco da stare lì Il sindaco è felice Il nostro re ci tiene tanto i suoi paesani Povero Poverino Vi potrete divertire Qui da noi troverai molti amici Non c'è nessuno C'è solo Divina Divinità E Pietro La legge L'X-Men E vedi E' proprio più A campana questo Invece quello di qua E' fatto un po' più A cazzata Allora vediamo di fare Un po' meno a cazzata Che lui Ok Così va bene Sì sì Papi Vieni un attimo Dove? Allora Possiamo costruire Un ristorante? Eh papi? Ma dove? Qua Il centro Ma non c'è Ma non c'è Mettiamo un ristorante qua Qua Per fare la cena No? Mettiamo qualche Mettiamo il cuoco Che avevi trovato Allora Facciamo una domanda Alla gente Che se vuole vedere il ristorante Noi facciamo un ristorante Se invece Vogliono vedere qualcos'altro Signora Ti scusi signora Vuole per caso un ristorante? Ma Ma quanto sei Cretino Ma non Alla signora Alla gente che ti guarda nel video No a quelli che ti ha trovato lo scappellotto dietro la testa Con un sasso Perché? Ma noi devi chiediglio Alla signora qua Alla signora che ti guarda e dice Questo qui è cretino Poverino Che ci vuoi fare? Alla quelli che guardano il video No? Signora Lo lasci perdere Che è iniquo questo signoraggio Questo personaggio qua Allo? Papi 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 Oh Scusa Devi chiederlo a quelli che guardano il video No? Se vogliono vedere Se vogliono vedere un ristorante Allora Le prossime puntate Allora andiamo Se volete magari Entrate nel nostro party E venite a mangiare Una buona cena Ti tiro un sasso Ti tiro così TAM Così te lo tiro Faccia Così TAM Papi 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 Nooo Ma non ti sta attaccando più, non lascialo stare Andiamo dal sindaco Dal vostro amico è il sindaco Fateci sapere se volete il ristorante E noi vedremo di realizzare il ristorante se lo volete Se noi non lo faremo, magari lo faremo lo stesso, chi lo sa? Dal vostro amico Halo 7499 è William Ciao ragazzi Per adesso è tutto e ci vediamo alla prossima Aspetta prima di concludere Chiapete dimmi Ragazzi se volete entrate nel nostro parco Un bel banchetto da mangiare Come dei pazzi, mangeremo come dei maiali E Halo 7499 è Will 7499 Ciao alla prossima, ciao ragazzi Ciao 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 ciao